buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video faccio la intro ora perché su c'era un po di vento prima probabilmente non si sentiva neanche dalla telecamera ce n'era poco però ho voluto evitare lo stesso e ora sono a bite del germano ho fatto il giro che ho fatto anche l'anno scorso ma oggi finalmente c'è un po di sole si vede un po di panorama front of to luck 784 per 805 secret trade che ci vado dopo mangiato un po di sole Grazie a tutti. E no, non si interro per tutti, no. Destra, poi su, dritto, dritto, dritto. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io stavo andando dritto. Adesso tra un po' se ne va ancora la discesa super tosta. Ok, ora qui veramente c'è di raffreddamento. Andiamo a piano, calmi. E qui sì, qui non è da andare forte. Non ricordo dall'anno scorso, anche se le linee vanno scordate tutte. Ok, ministro. Ok. 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 Oh Dio. Bella. 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 Ciao. 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 Era messo così in mare. 805 in giù. Eccolo, il lago. Mamma mia, spettacolo, è qui da foto. Aspetta, non vorrei tirare di sotto la bicicletta, però, per fare una foto. Soprattutto non vorrei finire di sotto io. Bello. Beh, insomma, che dire. L'anno scorso tutto questo non c'era, eh. Si vedeva un tratto blu lì nel mezzo e basta. Quattro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi poi, io spero sia giù di qui. Non è più segnato come l'anno scorso. Ok ragazzi, allora, Cartoon Trail sono spariti i segnali da un punto all'altro e non l'ho più visti. C'è il Secret Trail. Allora adesso vado a fare il Cartoon Trail che ieri non sono riuscito a portarvi. Ne faccio un tratto perché mi porta molto bene o meglio, mi porta all'inizio del Secret Trail. Ora però ciò sta zitto ai guidare. Allora. Allora. Qui davvero calma e sangue e freddo. Che puzzola. Dai. Su. Forse l'ho fatta meglio oggi di ieri. Scherzavo. Ho parlato troppo presto. Sergio, a sinistra è la linea giusta. Ecco. Qui ci si collega al ciclotto. Oddio. Ok ragazzi. Allora, se io ho parecchi dubbi. Allora, il Secret Trail che io l'abbia fatto da in cima già ieri, allora sarei contento perché ho rifatto anche un tratto di Cartoon Trail. Oppure, che non l'abbia fatto da in cima, ieri, che ho perso i cartelli oggi e non ci sono proprio. Vedo che è segnato strano. E adesso ci torno e lo rifaccio. In realtà iniziava praticamente da qua. Ah. Quindi questo non c'entra onda. No. Ah, ok, perfetto. Allora non ho perso i segnali io. Arrivo dalle creste. Sì. E ho fatto un paio di tratti che l'anno scorso non mi ricordavo. Ho detto, ma questa salita me la sarei ricordata. Quindi un giro di via sono fatto per forza. Allora, io sono arrivato dal Cartons. Eh, io ho preso il Cartons dopo perché sono andato lungo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso spuntai qui. Allora, non lassù. Ho preso la strada bianca qua. Allora sono contento così. Va benissimo. Ok. Allora, qui la cerco della salita è finita. Allora, qui la cerco della salita è finita. Cioè? No, continua di qua, eh. Sì, sì, è qua giù. Vedi che i segnali ce n'è meno della metà dell'anno scorso. Continua qui. Ma i segnali non ci sono più. No, ma non lo ricordo io, continua di qui. Ah, ho tagliato tutto. Ah, che ci sono stessi. Ah, che ci sono stessi. Ah, che ci sono stessi. Non ci sono stessi. Lo ha anticipato meglio questa. Si prova, si prova. Oddio. No, io qualcosa di linea ho visto ora. io l'ho fatto una volta ieri io l'ho sbagliata anche oggi non me ne ricordo mai quella di questa questa io non la chiuderò mai oh sì vabbè ciao se ti la vuoi provare io ti faccio i complimenti se riesci a chiuderle la mia meno della tua però è impossibile lo stesso dai che ce la fai aspetta che mi levo dal mezzo che basta ok ok tutto oh sono Grazie a tutti. 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 Ieri ho tagliato. Grazie a tutti.